Perché se io muovo a sinistra e nel movimento a sinistra ci inserisco una rotazione con la schiena, a questo punto Simona mi tirerà verso l'esterno e io tenderò a cadere verso di lei. Oppure se io decido di essere un attimino più chiaro nell'impostazione, magari sbaglio io, faccio questo, creerò la rotazione e Simona cade davanti a me. Questa è la cosa da non fare assolutamente quando si ricerca una buona azione di drive verso sinistra.